Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e andiamo anche oggi ovviamente a vedere il vincitore per oggi del contest da ruota a fortuna di oggi vi ricordo per partecipare essere iscritti al canale lasciare un bel like e un bel commento detto questo fulmine 369 ha vinto il contest di oggi andiamo a fare ovviamente il giro della ruota eccoci qui quindi con la ruota da fortuna facciamo come sempre il nostro bellissimo giro della ruota e ha vinto ragazzi esattamente la skin di Harley Quinn ovviamente scrivimi su Instagram ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in unissimo video su Fortnite News per parlare ragazzi di tante novità anche oggi andremo a vedere innanzitutto novità ovviamente per il cubo infatti abbiamo il loro percorso definitivo che dovrebbero fare per tutta la stagione e vi dirò di più anche per il futuro insomma di questo cubo e poi ragazzi parleremo di nuovissime armi e ovviamente dei 500 v-bugs che daranno Creatis ad alcuni giocatori detto questo però prima di iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanellina cerchiamo di raggiungere i 300 mi piace vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissati in alto e detto questo iniziamo subito direi che possiamo subito incominciare innanzitutto con questa super novità infatti ne abbiamo già parlato nei scorsi video abbiamo delle novità molto molto importanti per Venom e Kalnage infatti come possiamo vedere questa è la sua arma mitica infatti ci sarà un suo personaggio proprio che arriverà sull'isola che molto probabilmente o sconfiggendolo o magari con i lingotti potremmo prendere questa arma anzi questo super potere suo mitico attualmente nei file di gioco non è ancora ovviamente disponibile secondo me con sicuramente il nuovo aggiornamento 18.10 o magari con qualche aggiornamento futuro sicuramente lo potremmo vedere comunque al momento abbiamo solamente i suoni all'interno dei file di gioco e il movimento quindi probabilmente è già pronto per essere rilasciato e come vi dicevo prima abbiamo anche novità importanti per Venom in occasione sempre del suo film come possiamo vedere infatti nello shop arriverà molto probabilmente la sua skin quindi con la mimetica, piccone e deltaplano quindi full set che dovrebbe essere nel negozio oggetti poi include poi due stili la skin e inoltre il suo piccone può essere usato solo da lui quindi sarà un piccone esclusivo solo per la sua skin e la data di uscita di tutto insomma questo set dovrebbe essere esattamente intorno al primo ottobre non è ancora ovviamente confermato ma si dice che il primo ottobre possa insomma essere la data di uscita di questo nuovissimo bundle di Venom e ovviamente in occasione di questa nuova skin di Venom sicuramente arriverà anche la sua vecchia skin Marvel che già tutti conosciamo e inoltre in teoria ci dovrebbe essere intorno sempre a quella data magari anche il super potere di Carnage all'interno del gioco quindi intorno sempre al primo ottobre detto questo andiamo a vedere il prossimo link infatti come possiamo vedere sembrerebbe che col passare del tempo ragazzi la mappa possa diventare più corrotta ieri abbiamo visto che infatti la mappa subirà delle modifiche nel corso insomma di questa stagione non si sa ancora diciamo a causa di chi o che cosa però molto probabilmente a causa del cubo sicuramente la mappa riceverà comunque delle modifiche sembrerebbe che quindi queste modifiche possano corrompere quindi in poche parole tipo come è successo nelle zone di schianto possano corrompere piano piano tutta la mappa quindi magari potrebbe essere tipo un giorno magari verso la fine della stagione la mappa tutta corrotta in questa maniera qui come insomma dove si sono schiantati i UFO e i vari cubi non lo so ma è molto possibile inoltre ragazzi abbiamo guardato un po' il percorso di tutti i cubi presenti nella mappa infatti tutti e quanti cubi ragazzi verso probabilmente fine stagione dopo che avranno fatto un po' il giro di tutta la mappa andranno esattamente al centro della nostra isola di Fortnite esattamente dove c'è quel laghetto avete presente nel centro mappa dove attualmente infatti non c'è proprio nulla c'è solamente questo piccolo laghetto e sembrerebbe che facciano quindi la stessa fine che è successo nel capitolo 1 come il cubo Kevin che piano piano ha fatto il giro dell'isola ha lasciato le rune e poi verso ovviamente la fine della stagione era andato a sponde del saccheggio riasciando ovviamente poi tutto il suo liquido nel laghetto quindi molto probabilmente potrebbe succedere la cosa la differenza di questa stagione è che però ci sono ben 5 anzi più di 5 cubi perché sicuramente come abbiamo già letto nei scorsi video news mano a mano che andiamo avanti con i vari aggiornamenti dovrebbero essere aggiunti ancora altri cubi di ovviamente diverse grandezze quindi piccolo, medio o grande e quindi tutti questi cubi si andranno a riunire in questo piccolo laghetto e non ho idea di quello che potrebbe succedere perché se con un solo cubo era già successo un casino figuriamoci con una ventina di cubo che si fanno a mettere tutti in quel laghetto inoltre come possiamo vedere nella patch 18.00 quindi quella della nuova stagione si è intravisto questo file che sembrerebbe essere proprio per un evento infatti come possiamo vedere sono più file e sembrano, non è ancora confermato però sembrano essere per un evento live non si sa ovviamente che evento live sia ma molto probabilmente sarà magari qualcosa per Halloween sicuramente o qualcosa del genere però attualmente non ne sappiamo ancora appena avrò informazioni vi farò sapere però avremo comunque un evento sembrerebbe live magari proprio per Halloween parliamo anche di armi in arrivo sull'isola di Fortnite infatti come possiamo vedere armi e rarità in arrivo aggiunte nella patch 18.00 abbiamo innanzitutto la sella che servirà per ovviamente cavalcare il lupo in teoria il cinghiale e tutti gli animali disponibili sulla mappa di Fortnite il rampino ghiacciato leggendario questo sembrerebbe però arrivare nella stagione numero 9 come abbiamo già visto nello scorso video news abbiamo la falce viceversa leggendaria questa sicuramente arriva in questa stagione uva di tasso che non so cosa sia credo che sia un consumabile questo mitraietta da combattimento leggendario fucile assalto a combattimento comune e non comune raro epico e leggendario quindi tutte queste armi cetto in teoria rampino dovrebbero arrivare in questa stagione probabilmente verranno tutte quante distribuite mano a mano con le varie patch è comunque molto interessante la patch 18.10 vi ricordo che ha più di 900 test in assoluto la patch testata più volte da IP games quindi secondo me con questa patch verrà veramente aggiunto un sacco di roba soprattutto secondo me in questa nuova patch oltre all'evento di compleanno di Fortnite e tutto quanto sicuramente date le enormi insomma test di prova potrebbero già aggiungere magari il la sella quindi il poter cavalcare tutti e quanti gli animali inoltre ragazzi proprio questa notte è stata costruita la primissima torretta che è adesso proprio disponibile nella città ovviamente di soborghi scalcinati quindi la troverete già qui disponibile quindi potrete sparare di prepotenza con questa bellissima mitragliatrice ce ne sono ovviamente disponibili ancora mi sembra in qualche altra città ovviamente però dovete pagare i lingotti ovviamente una cosa collettiva quindi della community più lingotti lasciate più praticamente queste torrette vengono costruite nelle varie città quindi un'interessante iniziativa che Epic non aveva fatto fino ad ora e inoltre ragazzi è finalmente ritornato un bellissimo bundle nel negozio getti parliamo ovviamente di Mida ovviamente versione femmina una skin veramente molto molto carina 11,99€ ovviamente il suo prezzo inclusa ovviamente avete anche i 1500 bucks che dovete completare semplicemente dei incarichi il suo piccone doppio e inoltre il suo backpack poi la skin ovviamente comprende sia lo stile normale che lo stile oro quindi quello classico di Mida ed è adesso disponibile nel negozio getti non si sa quando se ne andrà però sicuramente durerà 2-3 settimane anche poi ovviamente se ne andrà per poi ritornare un altro giorno e infine ragazzi andiamo invece a vedere adesso i 500 bucks che verranno dati gratis ad alcuni utenti infatti Fortnite status tweet esattamente questo i giocatori che hanno acquistato il bundle di salva al mondo quello del robottino avete presente dal 18 agosto fino al 7 settembre alle ore 2 di notte hanno ricevuto o insomma riceveranno nei prossimi giorni per chi ancora non li ha ricevuti i 500 bucks come bonus a causa di un errore di comunicazione da parte ovviamente di Fortnite non so bene in che senso errore di comunicazione però intanto 500 bucks vengono dati gratis a tutti questi utenti quindi se avete acquistato questo bundle di salva al mondo del robottino entro questa data che va dal 18 agosto fino a 7 settembre avete insomma 500 bucks in teoria già consegnati nel vostro account o se no se non li avete ricevuti sicuramente arriveranno a breve detto questo per oggi ragazzi direi che possiamo fermarci qua noi ci vediamo domani alle 18 con un nuovissimo video ovviamente su YouTube bella ciao ciao